Si entra in pista, gira troppo male, Napoleone BFB doveva girare più in fondo, l'errore di Leonardo Leo resta indietro anche Narina al pari di Olivia di Casei, Napoleone BFB all'avanguardia nei confronti di Nuccio del Ripo, in fuori Naglo Guaiz, quindi otte il Chiu, Napoleone BFB al comando, entrando di fronte, all'avanguardia Napoleone BFB, migliora subito Naglo Guaiz che si presenta a largo del leader, Napoleone BFB avanti a Naglo Guaiz che deve ripiegare in Cial Battistrada, in terza posizione c'è Nuccio del Preen, quarta sempre otte il Chiu, poi Noamond HBD, quindi ancora per linea interna, Lupin Bip, 31 per la frazione, migliora con decisione Naval Vessel, nella cucia si pone Leon Nataleo in recupero a largo, anche Narina, si esce dalla piegata con Napoleone BFB in vantaggio sull'esterno, si presenta Naval Vessel, Napoleone BFB al comando, Naval Vessel che per ora temporeggia all'esterno, lungo la corda, sempre Naglo Guaiz, poi Noamond HBD, ora migliora Leonardo Leo, e la cucia c'è sempre Narina, alla retroguardia sono Lupin Bip e Olivia di Casei, ingresso in piegata con Napoleone BFB avanti a Naval Vessel, Napoleone BFB, Naval Vessel, Naglo Guaiz, poi Leonardo Leo, retta opposta a quella d'arrivo, l'errore intanto di Nuccio del Preen, all'avanguardia sempre Napoleone BFB in seconda posizione, Naval Vessel, poi Naglo Guaiz, la squalifica per Nuccio del Preen, mezzo giro al termine con Napoleone BFB avanti a Naval Vessel, poi Naglo Guaiz, Leonardo Leo all'esterno, quindi Noamond HBD, poi Olivia di Casei, si avvantaggiano in lotta Napoleone BFB e Naval Vessel, insiste Naval Vessel a lato del leader, in terza posizione Leonardo Leo, poi Olivia di Casei, ingresso in dirittura con Naval Vessel che sta attaccando con maggior decisione, prova ancora la difesa, Napoleone BFB, ma l'azione di Naval Vessel è quanto mai incisiva, e sta passando su Napoleone BFB, Naval Vessel, Napoleone BFB, terza sprinta, Otte e Ichiù, avanti a Leonardo Leo e Olivia di Casei, favorito, 2.47, il binomio Naval Vessel Marco Castaldo, Marco Castaldo, sempre più leader, fra i gentlemen in azione a Torino, si aggiudica dunque il Memorial Guareschi, tradizionale appuntamento ricordo, in scena a San Siro, ma gioco forza, trasferito a Torino, Naval Vessel Marco Castaldo, non c'è sul tabellone, il riferimento al tempo totale, e sulla costa differenzi a la costa prestazione Oni chiara ce?